Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video sul canale di Global Games Sono ancora Lorenzo Amari e siamo ancora su Dreamleague Soccer 2018 Oggi, come ho detto, giocheremo un'altra partita di Global Challenge Cup Contro Sant'Etienne Intanto, scorsa volta vi avevo fatto vedere qualche risultato Ma solo alcuni perché, però adesso Ho capito come fare a vedere tutti i nostri risultati Dunque, ricapitoliamoli tutti insieme Abbiamo vinto la nostra ultima partita 3-0 contro l'Hamilton Abbiamo vinto 1-0 con l'Excelsior 2-0 con il Girona 3-0 con il Barnsley 6-1 con il Feirenze 3-1 con il Celta Vigo 3-0 con il Groningen Abbiamo pareggiato 1-1 con gli Hertha La prima giornata che chi ha visto il primo video ricorderà benissimo Ma adesso siamo qui per andare a giocare Contro il Sant'Etienne In Global Challenge Cup Attenzione perché qui abbiamo un po' di giocatori stanchi Quindi dobbiamo fare un po' di sostituzioni Grimshaw Puglio E Bowman arretrato Attenzione stiamo giocando No, attenzione Giochiamo con tre attaccanti Con quattro Anzi con quattro Quattro attaccanti Tutti insieme Mamma mia Cioè se non li distruggiamo così Non ne ho idea Cioè Attenzione siamo allo stadio del Sant'Etienne Ed è ufficialmente cominciata la partita Di Global Challenge Cup Bravo Casper Capitan Casper Dalberg Da da Puglio Puglio là da fuori da Bowman Dai Bowman Crosso in mezzo Buono Troppo sul portiere Va bene, va bene, va bene Va bene, va bene Dai andiamo Occhio Occhio dietro Qualcuno Occhio Bravo Bowman Vai Loic Loic Vede il Capitan Dalberg Vai Capitano Sei tutti noi Vai Capitano Eh vabbè Da solo contro quattro Non poteva fare più di così Uissa Uissa Occhio in profondità Vada Puglio Puglio si gira Puglio tira Fuori 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 Ricordiamo che il Santa Etienne è una squadra francese che gioca il Ligue 1 per chi non lo sapesse Ok vai Capitano dal mezzo a Puglio 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 Loic Puglio 1-0 Global Games Vola Puglio Sul grande assist del nostro Capitan Dalberg Siamo in vantaggio per 1-0 Attenzione Subito Trentottesimo minuto del primo tempo Va a colpo Loic Puglio Dai 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 Difesa 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 Tutti questi attaccanti però siamo scoperti Molto scoperti Nooo Nooo Ha pareggiato Lois Diony Non so come si legge però vabbè Comunque una cosa del genere dovremmo recuperare Nel secondo tempo ormai perché Non è rimasto praticamente niente da giocare in questo primo tempo Calcio di punizione per noi forse sarà l'ultima azione Uh Dai casp Ok è finito il primo tempo 1-1 tra Santa Etienne e Global Games Nel secondo tempo dovremmo cercare di vincerla Non ho cambiato niente a livello centrocampo perché Per ora va bene così Poi se ci faranno un altro gol Beh Ricorreremo a Ai veri centrocampisti Bowman Dalla Dolberg Bravo Capitano L'aggancia lui Capitan Dolberg Se ne va Dalla Puglio però C'era Puglio libero Ennegan Mamma mia che scivolata Uissa Puglio Puglio il Capitano Il Capitano Il Capitano Capitano Otto al pallonetto Ma che pallonetto era Però boh Uh ma come Poteva essere un buon cross ma ce l'hanno urato Dai Loic Dacci Uissa Ennegan Vai Bowman Dolberg Dolberg il Capitano L'ha da Puglio 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 Sguardo in mezzo Puglio Puglio Cross arretrato Tanto li fa tutti così Se va a finire così ci sono i supplementari e non vorrei fare i supplementari Ma non vorrei neanche uscire dalla Global Challenge Cup Quindi è meglio Cercare il gol Occhio 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 Gordon Bravo Gordon Vai Loic Edges Capitano Dolberg non riesce a correre È stanco anche il Capitano È un umano anche lui eh Uissa Recupera il pallone Profondo da Puglio È arrivato primo al portiere Novantesimo Sta partita è destinata ad andare i supplementari No i supplementari No Supplementari Ma non abbiamo fatto Delle sostituzioni Comunque io farei delle sostituzioni Metterei tutta sta gente Uissa però lo teniamo avanti Insieme ad Olberg Ok abbiamo fatto doppia sostituzione E speriamo di vincerla Andiamo Capitano Capitano Casper È stato fermato Ghidileie Subito Ottimo approccio alla partita Ghidileie 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 Fuori Va bene Va bene Va bene Andiamo avanti così Uh Ha sbagliato C'è il Capitano Dolberg Il Capitano Dolberg Col sombrero Pallonetto scusate Uissa in mezzo Ottima parata del portiere Anche qui Dolberg Ma che Perché ha fatto una roba del genere Occhio 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 Malocchio È finito È finito E iniziamo il secondo tempo supplementare Murray 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 Dai bravo 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 Metticela in mezzo Buono Uh Non è riuscito A granciare il Capitano Casper Spero di non andare ai rigori Perché i rigori li tiro male Quindi dobbiamo far gol Gol Wissa Palo Palo di Wissa Poi Murray Sto faticando moltissimo Rimessa laterale per noi Dai Leonard Dai lì Wissa Cosa ci fai però? Ok un cross Wilson L'ha cercato Dolberg Ci è andata male Ci andrà ai rigori Occhio Wissa No Non è possibile Sì Sulla traversa ha tirato Occhio Capitano Casper Dolberg Casper Dolberg Spiace al portiere Continuiamo noi Finché non sbagliamo Murray Gol Sfonda le mani al portiere Occhio Adesso Tocca loro Oh la para La para La para La para Se la para Abbiamo vinto No Avevo intuito È andato troppo angolato Cacchio No sorrate Non posso sbagliarlo Gol Non ci credo Si va oltranza Si va oltranza Se segni hanno vinto Palo 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 Andiamo Erges Erges Incredibile L'abbiamo vinto Abbiamo vinto I rigori Mai così sudata Mai così sudata Abbiamo passato il turno Attenzione signore e signori Abbiamo vinto i rigori Mamma mia Ci tocca il Southampton Nella prossima partita E dunque Con il fiato sospeso Fino alla fine Il nostro video è finito qui Se non vi siete ancora iscritti Al canale di Global Games Iscrivetevi Un saluto E lasciate like E lasciate like E lasciate like